In Italia le scuole di musica e i conservatori attraversano un momento difficile, più che gli iscritti a mancare sono le strutture vere e proprie. Pochi anni fa questi istituti erano 40.000, oggi nel paese sono 24.000. In Veneto, per proteggere queste istituzioni e aiutare le famiglie, è stato proposto un progetto di legge regionale e istituito il Registro Regionale delle Scuole di Musica, che consentirà di aiutare le famiglie che hanno figli dai 5 ai 18 anni che le frequentano. L'elenco regionale permette alle famiglie di poter detrare fino a un massimo di 1.000 euro all'anno per quelle famiglie che hanno un reddito inferiore di 36.000 euro di ISEE e che dà praticamente la possibilità di avere queste agevolazioni fiscali e quindi è un incentivo per queste famiglie. Inoltre le scuole di musica costituiscono oltre a un legame stretto tra cultura, scuola e formazione, anche un valore sociale che aiuta i giovani a crescere e a maturare attraverso valori positivi. Oggi queste realtà non hanno solamente il ruolo di insegnare e appassionare i giovani alla musica, ma di questi tempi servono anche come centri estivi piuttosto che come dopo scuola.